Entro l'estate al via la progettazione del prolungamento Teb fino a Vertova, l'attenzione dell'impresa di Iranica è ora rivolta alla realizzazione del tratto Bergamo-Vila Dalmè. Novità in arrivo a questione della Presolana, ad Orga alla ZTL diventare pedonale con l'attivazione delle telecamere. Per l'estate verrà invece introdotto il gratta e sosta per alcuni parcheggi. Sulle piste del Montepora una giornata speciale con Sofia Goggia. La campionessa bergamasca prepara in Valle Seriana l'ultima parte di stagione in Coppa del Mondo. Buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti alla nuova edizione della TG di Antenna 2. Partiamo dalla cronaca. Un giovane di 31 anni è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Solto Collina. L'allarme è scattato poco prima dalle 14.30. Il giovane residente in Valtellina stava lavorando in un bosco sopra il paese e si è infortunato al poppaccio sinistro con la motosega. Per i soccorsi da Sondrio si è alzato in volo l'elicottero di Areu. Dopo le prime cure il 31enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Esine. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Clusone e i vigili del fuoco. Soccorsi in azione ieri in Val Camonica per recuperare una donna caduta in montagna. L'intervento è scattato intorno alle 16 nel territorio di Corteno Golgi. L'escursionista è scivolata lungo un sentiero nella zona di Campovecchio a causa del ghiaccio e nella caduta ha riportato alcuni traumi. La persona che era con lei è scesa fino al punto in cui era presente il segnale telefonico nella zona di Sant'Antonio e ha chiesto aiuto. Sono partite subito le squadre del soccorso alpino, sei i tecnici impegnati, altri erano pronti a partire in sede presso il centro operativo di Edolo. Attivati anche il soccorso alpino guardia di finanza e vigili del fuoco. Dopo che i soccorritori hanno raggiunto la donna, da Brescia è arrivato anche l'elisoccorso di Areu. L'escursionista è stata valutata e portata in ospedale con codice verde. Voltiamo pagina, sarà un 2023 dedicato in particolare alla realizzazione del nuovo tratto T2 verso Villa Dalmè, ma l'attenzione di Tebba sarà puntata anche sulla progettazione entro l'estate del tratto che arriverà a Vertova. Siamo stati nella sede della società Aranica a fare il punto della situazione dopo un 2002 tornato su buoni livelli. C'è una linea T2 innanzitutto che ci state sviluppando? Sì, il 2022 è stato un anno che ci ha visto molto impegnati nel sviluppo del progetto definitivo e nella predisposizione della gara d'appalto per la linea T2 fino a Villa Dalmè. Abbiamo concluso a dicembre, la gara è aperta e contiamo a marzo di esplettare tutte le procedure di gara e a giudicare l'opera che dovrebbe concludersi entro il 2026 in tempo utile per rispettare le scadenze del piano nazionale ripresa e resilienza. Questa è stata l'opera che ci ha impegnato al massimo in questo frangente perché è una gara da 174 milioni di euro, quindi molto rilevante e i finanziamenti che abbiamo ricevuto vogliamo impiegarli al meglio per il buon fine dell'iniziativa. Parallelamente però abbiamo predisposto per quanto riguarda invece la linea T1, la linea da Val Seriana già in essere, abbiamo predisposto le basi in accordo con la comunità montana, Valle Seriana e con il bacino embrifero montano che ha finanziato parte di questi lavori, abbiamo predisposto i documenti per avviare gli incarichi, diversi incarichi, uno sullo sviluppo per capire dal punto di vista tecnico, dal punto di vista trasportistico e anche dal punto di vista urbanistico le condizioni per un eventuale prolungamento della linea e un altro lavoro per consolidare la presenza della tramvia nei territori già attraversati della bassa valle con delle operazioni di facilitazione all'accesso. C'è anche una funivia in previsione, appunto questa parte progettuale che arriverà fino in Servino, qua a che punto siamo? Allora la funivia non è in gestione di Tebbe evidentemente, c'è una funivia che è in esercizio, a noi piacerebbe che questa funivia in esercizio potesse nelle sue prossime revisioni avere un tracciato differente che arriva vicino alla nostra stazione di Albino Prada Lunga e dobbiamo commissionare proprio anche qui una verifica di fattibilità di questo perché se fosse possibile sarebbe molto meglio per l'utenza, in particolare per quella dell'altopiano e molto meglio anche per Tebbe perché avrebbe un interfacciamento con un altro servizio. Tornando quindi alla Valle Seriana, quindi adesso che tempistiche ci possono essere, quali sono le esigenze che avete riscontrato insieme a Comunità Montana? Le esigenze di pensare a un nuovo modello di trasporto perché il tema non è solo il potenziale prolungamento della linea T1 sul quale crediamo ci siano dei margini interessanti ma anche come questo prolungamento che può essere fino comunque a una certa soglia della Valle, non può essere un prolungamento eccessivo perché la nostra è una metrotranvia, non è un treno, come questo prolungamento si interfaccia con gli altri sistemi di trasporto pubblico e di aduzione di mobilità, questo è il tema. Quindi ci spieghi di cosa si tratta questo progetto con Comunità Montana? È un progetto altamente sperimentale perché gli scenari di crescita del sistema della mobilità nei prossimi anni in tutta Europa sono legati al cosiddetto ITS, Intelligent Transport System. Regione Lombardia ha promosso un bando con anche finanziamenti cospicui per stimolare la realizzazione di sistemi di trasporto integrati nel territorio lombardo. La comunità montana Valle Seriana ci ha chiesto di partecipare a questa iniziativa, a questo bando, immaginando un sistema di coordinamento tra le reti di trasporto in termini informativi, in termini di gestione della mobilità e in termini quindi anche di servizio all'utenza perché avere dei sistemi coordinati e i cui tragitti, i cui orari sono interfacciati permettono anche di fornire dei servizi anche a domanda, in certi casi specifici. Vediamo lo sviluppo di questo bando, è in una fase sperimentare ovviamente, ma traccia uno scenario che sarà lo scenario sicuro dei prossimi anni. Ci spostiamo sui laghi della provincia, i posti barca sui laghi di Iseo, Endine e Moro nel 2022 hanno fruttato 580 mila euro, soldi che verranno reinvestiti dall'autorità di Bacino nelle manutenzioni dei porti e degli ormeggi. Sentiamo. L'autorità di Bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro che gestisce e assegna i posti barca demaniali sul lago di Iseo ha ricevuto ben 1868 richieste di ormeggio, ma i posti disponibili sono solo 1490. Dunque per il quinquennio 2023-2028 quasi 400 proprietari di barche dovranno rivolgersi ai porti privati oppure traslocare altrove. Sul lago di Iseo sono stati assegnati tutti i posti disponibili nei 46 porti regionali. Sulla sponda bergamasca sono 14 posti a Castro, 66 a Costa Volpino, 58 a Lovere, 180 a Predore, 73 a Riva di Solto, 262 a Sarnico, 53 a Taverdola. Sulla sponda bresciana 58 a Marone, 139 a Monteisola, 100 a Paratico, 57 a Pisogne, 21 a Sale Marasino e 41 a Sulzano. Sul lago d'Endine sono 144 i posti barca, 20 quelli sul lago Moro. In questi due laghi rimane qualche posto disponibile, ma c'è una ragione, non possono essere utilizzati motoscafi. Il canone di concessione è compreso tra 200 e 500 euro e varia in base alla superficie occupata dalla barca. L'autorità di Bacino incassa complessivamente circa 580 mila euro, ne trattiene il 70% e il resto viene girato alla regione. Il presidente Alessio Rinaldi sottolinea la necessità di incrementare il numero dei posti barca sul Sevino, intervenendo sui porti già esistenti oppure pensando a soluzioni nuove. L'anno scorso per la prima volta è stato fatto questo bando per l'assegnazione dei posti di ormeggio in modalità online. Abbiamo ricevuto più di 1800 domande, 1848 domande, per una disponibilità di 1500 posti di ormeggio nei porti regionali gestiti da autorità di Bacino che sono circa 50 sui tre laghi Iseo, Endine e Moro. I posti di ormeggio disponibili sulla sponda bresciana sono leggermente superiori a quelle della sponda bergamasca, tenendo conto però che il lago d'Endine ha circa 100 posti disponibili. In questi giorni coloro che sono entrati in graduatoria e che hanno avuto il posto d'ormeggio per il periodo 2023-2028 stanno procedendo al pagamento della concessione dell'ormeggio. Questa concessione che per quanto riguarda gli introiti, i nostri introiti che si aggirano annualmente intorno ai 580 mila euro prevede che un posto barca possa costare dai 200 ai 500 euro all'anno sulla base della dimensione della barca e dello spazio acqueo occupato. Ricordiamo che la concessione d'ormeggio prevede unicamente la disponibilità dello spazio acqueo, quindi nei porti regionali sono porti non sorvegliati, non protetti, intendo dire non sono come i porti che ci sono nelle nautiche dove vi è un servizio di guardiania portuale, ma semplicemente il soggetto possessore del posto d'ormeggio deve preoccuparsi personalmente di curare il proprio posto e la propria barca. Ci spostiamo ora in Alta Valle Seriana dove sono in arrivo novità a Castione della Presolana, cambierà la ZTL ad Orga con l'attivazione delle telecamere. Per l'estate verrà invece introdotto il gratta e sosta per alcuni parcheggi, il servizio di Nicola Anderoletti. Con il sindaco di Castione della Presolana, Angelo Migliorati, vogliamo fare il punto sull'attività della polizia locale all'interno del comune, anche perché sono in arrivo delle novità. Allora, con lo scorso anno il corpo di polizia locale di Castione, il servizio di polizia locale, è andato a completarsi, per cui abbiamo tre agenti e qui un vicecomandante che sono ormai a tempo pieno e iniziano a lavorare in modo serio. Lo scorso anno abbiamo avuto un notevole incremento delle sanzioni elevate a Castione, soprattutto per divieto di sosta, per mancata assicurazione dell'auto, per cui sono parecchie, e mancata revisione dell'auto. Questi tre articoli in particolare hanno portato al comune oltre 70.000 euro di multe, per cui il servizio c'è, è sul territorio e si vede, per cui l'invito prima ai cittadini è di assicurarsi e di provvedere alla revisione, perché è nel loro interesse, ma anche negli interessi dei cittadini. Avendo completato per cui la struttura dell'area polizia locale, si introducono alcune novità a Castione già a partire da Pasqua, per cui da Pasqua vengono attivate le telecamere sulla ZTL, che non si chiamerà più così, ma diventa area pedonale urbana APU di via Fantoni. Per cui ricordo ai cittadini che dal primo di marzo possono richiedere i nuovi permessi per entrare in APU Fantoni, che i contrassegni rilasciati della ZTL non saranno più validi, per cui senza nuovo contrassegno si prende la multa e di stare attenti, soprattutto adesso a entrare i non autorizzati, perché la multa è intorno alle 100 euro a ingresso, per cui non è poco. Abbiamo anche visto che l'ingresso, abbiamo fatto degli esperimenti in questo periodo, che l'ingresso appunto in ZTL APU è di oltre 200 veicoli al giorno non autorizzati, per cui speriamo che questi veicoli non rendano al comune 20.000 euro al giorno di multe. l'invito è proprio a controllare e stare attenti alla segnalitica. Il secondo invece passaggio che sarà abbastanza nuovo per Castione, l'abbiamo copiato soprattutto da Clusone, da Selvino, ma da anche tanti altri comuni che operano qua, si introducono i parcheggi a pagamento nei centri storici. Sostanzialmente tutte le zone disco diventano parcheggi a pagamento dal primo di giugno. Ci saranno i gratte e sosta, per cui un'ora costerà 1 euro e tutta la giornata costerà 5 euro. Si valuta comunque che la prima mezz'ora sarà gratuita, per cui uno può andare in banca, in posta o fare le sue commissioni senza dover pagare. Questo dal primo giugno. Verrà fatta tutta la segnalitica nuova, in blu verranno messi ovviamente i segnali. Invito già i commercianti, in particolare i bar e così, aderire alla vendita dei gratte e sosta in modo che possano dare un servizio anche a chi ne dovrà usufruire. Successivamente valuteremo in base a come andrà l'estate a Castione di estendere anche la sosta a pagamento sia al Monte Porra che al Passo della Presolana. Un Green College per raccontare gli stili di vita sostenibili è l'iniziativa proposta questa mattina all'Istituto Fantoni di Clusone per la giornata del risparmio energetico. Siamo andati a vedere. Oggi è la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e proprio in occasione di questa giornata l'Istituto Fantoni di Clusone ha voluto proporre un'iniziativa. In particolare cosa? Sì, l'Istituto Fantoni ha accolto l'invito che da 19 anni Radio 2 col programma Caterpillar propone di sollecitare e sensibilizzare tutti, dagli studenti e professori a tutto il mondo sul tema dell'ecologia, del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. In particolare quest'anno il Comitato Genitori ha consegnato a ogni classe un cartellone e ha invitato loro a decorarlo come più gli piaceva e questa mattina sotto questo bellissimo sole ci siamo ritrovati e abbiamo messo insieme tutti questi cartelloni creando l'icona del riciclo. L'idea quest'anno dell'iniziativa Miluno di Meno è legata alla comunità, al fare comunità energetiche. Ecco i ragazzi quest'anno sono stati capaci di fare questo, di creare comunità e da questo punto si può partire per anche sensibilizzare tutto il resto del mondo sulle attenzioni minime, per esempio spegnere la luce, chiudere l'acqua quando non serve per migliorare il nostro mondo. Questa iniziativa ha visto coinvolti in prima persona i genitori ma naturalmente anche gli studenti e com'è stata la risposta dei ragazzi? È stato molto entusiasmante perché li abbiamo visti attivi, partecipi e veramente coinvolti in questo piccolo gesto che però ci ha permesso di vedere come ciascuno si mette in gioco proprio a livello personale per salvaguardare un po' il mondo e provare a fare qualcosa in questo momento particolarmente anche complicato e difficile. Bellissimo se voi vedete i cartelloni e la varietà di interventi che si possono notare, ci sono dei dettagli, delle finezze che ci fanno respirare proprio la presenza singola di ciascuno con il proprio gruppo, con il proprio mondo adolescente, bello carico, bello pieno di vita e di valori positivi. Quindi è stato proprio piacevole questa mattina vedere nei giovani questa luce, questa luce che è davvero quella che dovrebbe aiutarci a illuminare il mondo di qualcosa che non è consumabile ma è cuore. Si avvicinano gli ultimi giorni di carnevale, sono diverse le iniziative in programma a Ponte Nossa, dalla cena in oratorio alla sfilata fino al ballo in maschera del martedì grasso. Sentiamo cosa c'è in programma. Anche a Ponte Nossa si festeggia carnevale, che cosa avete messo in programma per quest'anno? Ma il programma vuole spalmarsi un po' sulle giornate di carnevale, quindi partiremo con una cena in maschera possibilmente nel senso che desideriamo che quanti partecipano alla cena sabato 18 febbraio in oratorio possono venire in maschera, non è obbligatoria certamente, però sarebbe bello davvero colorare il sabato sera con le nostre maschere e poi con una serata appunto di grandi sorprese. Non vogliamo svelare nulla ma sarà una serata sicuramente divertente. La domenica pomeriggio, come sicuramente in tanti o in tutti i paesi, la sfilata di carnevale che partirà da Via Libertà in cima al paese per sfilare appunto lungo la via principale di Ponte Nossa e giungere in oratorio dove ci intratterremo con un po' di animazione ma soprattutto con la premiazione delle mascherine più belle, mascherine quindi dedicate soprattutto ai bambini e una grande merenda di carnevale. La cosa particolare che forse non troviamo negli altri paesi è il martedì sera. Martedì sera in piazza Giovanni Paolo II che è per tutti conosciuta la Calamina il ballo in maschera chiuderà un po' le celebrazioni, le feste del carnevale per poi lasciare spazio alla quaresima. Infatti il ballo in maschera inizierà alle 20.30. Anche lì saranno premiate le maschere soprattutto gli adulti in questo caso con premi caserecci e ci sarà la possibilità di passare un paio d'ore divertendosi e ballando insieme. Poi alle 24 il suono del campanone decreterà la fine del carnevale per dare inizio alla quaresima appunto con il mercoledì delle ceneri. Un particolare ringraziamento per il carnevale come per tante altre iniziative va alla Proloco che è in prima linea organizzatrice insieme appunto all'oratorio di questo carnevale. Passiamo ora alla pagina sportiva ospite speciale sulle piste del Monte Porra nella giornata di oggi. La campionessa bergamasca Sofia Goggia sta rifinendo la preparazione in vista delle ultime gare di Coppa del Mondo. Ce ne parla Elisa Cucchi. Sofia Goggia qui sulla neve del Monte Porra ad allenarsi innanzitutto come stai dopo questo mondiale? Buongiorno, ma sto bene, sto svolgendo un lavoro, un piccolo blocco tecnico di 5 giorni che sarà un tocca sana vista anche l'impossibilità di far gigante durante il corso della stagione a causa della mano. Sono veramente contenta di potermi allenare qui, di star nella bergamasca e di ritrovare un po' quell'atmosfera casalinga con cui sono cresciuta. Come sono le nevi bergamasche? Com'è la neve con queste giornate peraltro? Insomma, com'è anche questo Monte Porra? Ma devo dire, temperatura molto calda, però una neve è ancora invernale, quindi condizioni al top per svolgere il lavoro necessario. Quanti sono i bergamaschi nel tuo staff? Perché insomma, oggi hai scelto le montagne bergamasche, ma insomma anche nel tuo team ci sono bergamaschi d'occhio. Allora, i bergamaschi nel mio team sono due e sono Luca Gazzi, allenatore, e Barnaba Greppi, lo ski man. Quindi insomma sono loro che ti seguono da vicino. Questa mattina com'è andata? Quali sono le sensazioni? Ma è andata bene, è il mio secondo giorno di gigante, stiamo lavorando su alcuni dettagli tecnici che mi aiuteranno a ritrovare un po' la stabilità che ho perduto e che sono convinta che tornerà in quest'ultimo mese di Coppa del Mundo. Esatto, perché siamo pronti per questo ranch finale. Insomma, adesso ci si gioca davvero la stagione? Esatto, ma ci si gioca la stagione. Per ora sono prima nel ranking in discesa, l'intenzione è quella di portare a casa la mia quarta Coppa di discesa, ma di far comunque anche bene in Super G, che è una disciplina a cui tengo particolarmente e in cui non sono ancora riuscita ad esprimermi al top quest'anno. Chiudiamo come fai di solito, come fai di solito sui social? Ciao fans e Oli The Brave. Ciao fans e Oli The Brave, sempre. Sì, il clima negli ultimi giorni è cambiato, sicuramente stiamo andando verso la primavera, però fortunatamente con il lavoro che abbiamo fatto a inizio stagione, con l'innevamento artificiale, le condizioni sono davvero ottime. Siamo molto contenti e soddisfatti della stagione, abbiamo davvero avuto un ottimo riscontro di pubblico, dobbiamo ringraziare anche il lavoro importante che hanno fatto le scuole di sci, appunto con gli istituti scolastici che citavi tu prima, abbiamo avuto davvero tante scolaresche anche infrasettimanale che sono arrivate sia dalla provincia di Bergamo, di Brescia, ma anche dal milanese e questo ovviamente ci ha dato grande soddisfazione. Noi oggi abbiamo avuto la possibilità, anche grazie a voi, di intervistare Sofia Goggia, questa grandissima campionessa, che per preparare l'ultimo periodo delle sue gare e della sua Coppa del Monto ha scelto il Montepora, questo credo che sia un grande motivo d'orgoglio. Assolutamente sì, è una grandissima soddisfazione, Sofia è una campionessa di cui tutti conoscono ovviamente le doti, sia agonistiche che umane, per cui è veramente un piacere averla qua con noi ad allenarsi ed è anche, credo, un riscontro positivo in merito alla qualità della preparazione delle piste, per cui se una campionessa del calibro di Sofia decide di allenarsi al Montepora significa che anche il livello tecnico di preparazione delle piste è davvero molto alto e oltretutto anche in queste giornate un po' più calde significa il mantenimento della neve con il lavoro che fanno di notte i nostri gattisti capitanati da Fulvio Pasinetti è davvero incredibile. E veniamo ai programmi della serata su Antenna 2, alle 20.05 Paddock, programma di motori a cura di Franco Bobbiese, alle 21.30 Bergamo sugli sci, alle 22 Ascoltate il lavoro, alle 22.30 la seconda edizione del Tg di Antenna 2, alle 23.05 Ski Magazine, alle 23.45 il sasso nello stagno e a mezzanotte 30 la terza edizione del Tg di Antenna 2. Dal manacco del giorno domani, venerdì 17 febbraio, il sole sorge alle 7.15 e tramonta alle 17.53. La luna è calante, sorge alle 5.47 e tramonta alle 13.53. La chiesa ricorda i santi fondatori servi di Maria. E con questo è tutto, dopo il Tg andrà in onda il Tg Sport, la rubrica classica ma non troppo e le previsioni del tempo. A tutti voi una buona serata. La chiesa ricorda i santi fondatori di Maria.